Vedi quanta libertà c'eva? Ancora posso sopravvivere? Da quel momento quando tu prima chiudi? L'ampus 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 Vito Quando chiudi lui non si sposta mai Da quel momento quando lo inseris Perché? Perché non avevo libertà della meccanica Era chiudere E vede Vede Vedi 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 Da un dinoste Passa Vedi 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 credite se è in culo invece non ancora... ...mè dentro la gamba non prendi pensa a passare ma vostra gamba Eh 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 eh! no voi fare il comfort, non faci colteri di pieda non, non, non non ne deritse, passa passa qui non pensa di questa gamba passa,cdot passa... voi bekommt i piedi si dipende, oh, stop, alto, si vede, vedi tu sei caduto qua, non sei caduto in giro, non è una casa pulita di qui, no, questa era pulita, perché sei caduto qua, no, non dico, passate di gambe, no, no, adesso era posto, il 90%, adesso di qua, vedi, ti stai passando, lui si dipende, vedi, troppo, vedi qua, cadi, cadi qua, cadi, oh, vedi, vedi, chiudimi bene con gambe, chiudi bene, vedi, vedi, e schiaccia bene tutto il corpo, schiaccia bene, con l'addominale, stringimi con l'addominale, attaccati con l'addominale, portati il ginocchio a tuoi spalle, e anche stringi, quindi questo è molto più sotto, sotto ancora, oh, e vai, stringi, perché, stavo, vedi, 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 ratti qui, perché ti asco, e andrò qui, e da qui basta, no, non faccio niente, importantissimo, poi quando io sono entrato qui, io posso fare tante cose, vedi, e poi basta, guarda, basta alzarti, e qua basta fare un ok, ho capito, mi piace, chiesto, lo転mo problematiche, e qua basta, è più Sì, sì. Sì, deve essere in piedi però, sì, senti come succede, vedi? Vai, 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 no, no, tu pensi adesso, non deve fare queste cose, adesso vai con pala di lì, aspetta, così, sotto i paloi, sotto i paloi, sotto i paloi, sotto i paloi, ancora molto, ancora molto, ancora molto, una cosa tremenda, una cosa tremenda, una cosa tremenda, ok, comunque però, loco, metti bene, si metti 2, loco, no, loco di... Vai vai vai, vedi qua c'è berto, vedi, vedi questo fr langsam peso, metti suo... Coi vieni, vedi? Bene, io sono Pagli, sono bene